Musica Cari amiche, cari amici di Rossini TV, bentornati, bentornati sulla nostra emittente, sul canale 80 del Digitale Terrestre. Anche questa sera abbiamo ospiti nei nostri studi, la Onlus Gulliver. Buonasera a tutti. Buonasera Valeria Gianni. Buonasera. Buonasera Chiara Benelli. Buonasera. E buonasera Marco Travagli. Buonasera a tutti. Valeria Gianni è uno dei soci fondatori della Onlus Gulliver e ci spiegherà in poche parole in cosa consisterà l'argomentazione di cui tratteremo questa sera, Valeria. Allora, buonasera a tutti. Allora, io sono qua innanzitutto perché ho piacere di far capire al cittadino pesarese che sostiene il nostro progetto del riuso, Gulliver cosa fa, chi è, è la nostra comunità e la nostra vita quotidiana. Allora, per chi non ci conosce, noi siamo nati 13 anni fa in un asilo dell'infanzia a Muraglia nel nostro quartiere di Pesaro e in seguito alla grande crisi che era arrivata economica e quindi tutte le persone avevano delle difficoltà. E noi, che eravamo un gruppo di genitori dell'asilo, abbiamo iniziato a pensare al bisogno di chi c'era accanto. E abbiamo iniziato questa raccolta di abiti usati, quindi tra noi famiglie ci cambiavamo o donavamo degli oggetti che a casa non servivano più, ma che per qualcuno potevano essere fondamentali. Quindi, pian pianino, dopo anno abbiamo conquistato la fiducia del cittadino e oggi, come oggi, abbiamo un capannone e due sedi a Pesaro dove il materiale usato viene dato, ceduto a modico prezzo e quindi tutti possono venire, sia nel donare, sia nel prenderlo per le proprie esigenze. Abbiamo iniziato così, per destino, e poi giorno dopo giorno ci siamo accorti che comunque è un risultato importante, perché non è tanto il donare l'oggetto, ma ci colleghiamo al principio dell'economia circolare, perché oggi come oggi si parla di ambiente, di inquinamento, di natura e quant'altro. Quindi la nostra vita quotidiana fa sì che dare vita a un oggetto usato ha tanti benefici. E oltretutto, non solo del fatto ambientale, ma noi tramite quel dono riusciamo a esercitare una vita di inclusione sociale, perché noi abbiamo volontari, abbiamo persone speciali, giustizia riparativa e tante cose. E io oggi ho voluto portare con me, diciamo, due persone speciali per Gulliver. E Marco Ravagli, che è una guida ambientale. E Chiara Benelli, che è una professoressa di un istituto del nostro quartiere. Questo perché? Perché spiegare specialmente ai ragazzi e adolescenti che cos'è un'economia circolare, cos'è l'educazione, cos'è il rispetto dell'ambiente, perché lo dobbiamo fare. Io dico lo dobbiamo fare, perché non si può parlare solo di inquinamento, ma secondo me è fondamentale anche spiegarlo al nostro futuro. Il nostro futuro? Chi è? L'adolescente, che oggi come oggi sta sempre sul cellulare e pensa ad altro. Cammina, getta la carta per terra, fa altri tre passi, getta il mozzicone della sigaretta, si vede in un parco con gli amici, vanno via, lasciano tutto il tavolo sporco di rifiuti, senza pensare che dopo di loro magari si avvicina un nonno con un bambino. E quindi sentire le parole di una professoressa che comunque fa educazione, segue i ragazzi ed è proprio l'età clou per l'insegnamento e vicino una guida ambientale, penso che sia il massimo per capire Gulliver il messaggio che giornalmente vuol dare. Quindi Gulliver non è il mercatino dell'usato normale, ma noi abbiamo tanto senso in più e quindi io sono qui per spiegare al cittadino pesarese che il riutilizzo oggi come oggi è indispensabile. Marco Lavagli, sei stato chiamato in causa, guida ambientale, economia circolare, tanti concetti importanti da spiegare, soprattutto poi anche da capire da parte dei giovani. Come ti viene a te la passione di fare la guida ambientale? Da dove esce? So che tu ti occupi nella vita di tutti i giorni, di altro, hai un lavoro, però ti scatta di voler fare la guida ambientale. Perché? Beh, io ho avuto da sempre la passione di camminare nei boschi e nella natura, però lo facevo in maniera un po' ignorante da ragazzo. E invece ho voluto prepararmi e studiare per cercare di guardare quello che mi circondava con occhi nuovi. Ho tre figli e quindi vorrei trasmettere a loro questa passione e il rispetto per la natura ovviamente fa parte di questo amore grande. Certo, e probabilmente non c'è niente di più fondante appunto di economia circolare riferendosi alla natura e al rispetto della natura e dell'ambiente nel quale viviamo. Ed è proprio questo l'aspetto fondamentale dell'economia circolare, Marco. Sì, io conosco la Gulliver da tanti anni perché porto i miei oggetti usati in buono stato da sempre alla Gulliver per dare una nuova vita e per non doverli mandare allo smaltimento. Quest'anno grazie a Valeria, Fabrizio e alla disponibilità di tutti i ragazzi che lavorano alla Gulliver abbiamo avuto la possibilità di portare alcune scuole di classi medie di Pesaro a toccare con mano che cos'è l'economia circolare perché alla Gulliver l'economia circolare si attua sul serio, si dà valore agli oggetti, si valorizzano gli oggetti cercando di interrompere il classico modello di economia del compra, usa e getta, però è attraverso la valorizzazione degli oggetti in realtà alla Gulliver si dà valore anche a molte altre cose, alle persone, alle relazioni, al lavoro. Quindi io spero che attraverso questa esperienza i ragazzi abbiano capito che si deve e si può fare di più, ogni singola persona deve e può fare di più per interrompere un modello che ormai è obsoleto. Certo, hai utilizzato peraltro la parola oggetto, ma in realtà dietro gli oggetti ci sono le persone che le utilizzano e non solo le utilizzano ma possono darle una seconda vita, come hai detto tu. Allora, come funziona esattamente? Tu hai detto che proprio lo fai fisicamente perché hai donato tanto, hai dato cose tue usate, le hai portate al mercato di riuso e ne prendi altre. Come funziona esattamente? Cioè proprio descrivecelo in maniera concreta. In maniera pratica. In maniera pratica. Allora, se ho dei giocattoli, i miei figli crescono, quindi alcuni giocattoli non servono più. E loro sono contenti di dare, sì, comunque lo accettano perché anche lì c'è un discorso culturale, no? Esatto, lo accettano perché mandarli al riciclo o allo smaltimento quando qualche altro bambino può utilizzarli. Lo stesso vale per i libri o i mobili, i vestiti, tutto quanto, insomma. Perché produrne di nuovi se non è necessario? E quindi entra in gioco proprio anche un salto culturale che si dà ai propri figli. Perché si fa capire, senti, ma se questo gioco tu non lo usi più, perché lo vuoi tenere per forza? Fa sì che lo usi qualcun altro. Ed è importante questo, è importantissimo. Cioè è un concetto educativo molto importante. Io penso che tutte le volte che l'uomo vuole fare qualcosa di buono deve cercare di imitare la natura. Nella natura nulla si spreca. È un ciclo virtuoso in cui i materiali e le energie ritornano sempre al punto di partenza, alla terra, all'acqua e al sole. Invece l'uomo per tanto tempo, per decenni, ha attinto risorse alla natura, le ha trasformate in processi produttivi e ha creato oggetti che sono indigeribili per la natura. Invece il riutilizzo e il riuso fanno sì che questo processo ormai antiquato venga interrotto, secondo me. Basti pensare allo stilicidio della plastica nei mari, tutte queste cose che sono davvero agghiaccianti se pensi alle creature del mare che purtroppo tante volte si nutrono di quelle che sono i nostri rifiuti buttati nel mare. Chiara, invece tu so che sei professoressa di matematica, quindi il concetto di circolare ti dovrebbe essere abbastanza noto, ma a prescindere da questo. Però mi dicevi prima che hai fatto il liceo classico. Esatto. Ma perché? Per non fare la matematica. Esattamente, all'inizio non mi piaceva la matematica, poi in realtà ho scoperto che matematica e scienze mi piacciono molto, in realtà mi piaceva molto anche l'ambiente, quindi dovevo per forza trovare un canale di studio che mi portasse alla conoscenza dell'ambiente. E quindi sono contenta perché poi queste conoscenze le posso trasmettere agli alunni. Quindi nell'ambito soprattutto delle scienze, non tanto della matematica, ma delle scienze e dell'educazione civica che comunque rientra nella mia materia, mi piace trasmettere questa idea sia dell'economia circolare che della conoscenza dell'ambiente, come dicevi tu, anche delle plastiche, del rifiuto, dell'inquinamento e quindi cercare di far capire cosa può fare ogni singolo alunno, cosa può fare ogni singolo ragazzino per migliorare. Per migliorare, esattamente. E qual è stata la loro risposta? Qual è, tu dal tuo punto di osservazione, cosa hai visto? Tante volte diciamo, ma i giovani d'oggi, no? Noi siamo abituati a dire i giovani d'oggi non erano come quelli di una volta. Secondo me no, sono anche meglio. Però dimmelo tu che sei sul campo. Sul campo. Allora, ho iniziato, ecco, buttando lì dei concetti di teoria ovviamente, poi mi sono avvalsa anche di altri esperti esterni e ho pensato che dovevo comunque portarli a conoscere qualche realtà del territorio, quindi abbiamo visto anche tutto il ciclo dei rifiuti sia dal punto di vista meccanico e teorico, ma poi ho detto forse devono anche vedere cosa è la realtà del territorio. E quindi dopo diverse uscite siamo, ho pensato anche di portarli a conoscere la Gulliver, che è una realtà che conosco da quando è nata, perché anch'io sono del quartiere dove è nata la Gulliver. I miei figli andavano in quell'asilo lì e quindi l'ho vista crescere, l'ho vista nascere e l'ho sempre sostenuta e stimata come associazione. Sono un utente, quindi anch'io se posso porto i miei materiali alla Gulliver. Partecipi all'economia circolare. Partecipo assolutamente all'economia circolare perché ne sono convinta. Quando ho potuto ho fatto anche volontariato, quindi nelle varie attività che loro fanno, e ho deciso di portarci alcune mie classi. Quello che hanno spiegato, ha spiegato il personale della Gulliver quando siamo andati in visita è soprattutto anche l'approccio come volontariato. Volontariato e inclusione. Io, come dico, conoscevo questa realtà ma come l'hanno spiegata mi ha colpito. Questo aspetto del volontariato, dell'inclusione e anche del modo di donare certe cose. Quindi di farlo con una certa consapevolezza, quindi anche con dei materiali comunque integri che tu sai che andranno in altre mani. I ragazzini da questo sono rimasti colpiti. Hanno visto anche non solo la bottega del riuso ma anche il retro. Quindi la selezione, come funziona, come arrivano i materiali, anche il cibo. Quindi forse non si rendono conto nella nostra realtà anche che ci sono famiglie che hanno bisogno anche di cibo. Quindi è stato per loro impattante. Quindi sono soddisfatta di quello che... Certo, perché capita molto spesso di dare le cose per scontate. Poi i giovani e i giovanissimi non hanno neanche tante volte gli strumenti. Vivono la loro gioventù, la loro adolescenza, nella normalità che gli fa vedere la famiglia. Si ritrovano di fronte a situazioni invece sulle quali riflettere profondamente. Esatto, che magari non conoscono, che non hanno mai visto o sentito perché vivono nel loro ambiente felice. Certo, è felice ma che può essere felice anche insieme ad altri. Ed è questo proprio l'aspetto importantissimo. Marco, guida ambientale, hai detto che ti piace andare nei boschi, ti piace proprio dire, lo fai ovviamente ancora, quindi in termini ancora più consapevoli che all'inizio. Sì, sì, la mia passione è questa, la mia grande passione. Appena ho un attimo, il tempo è sempre meno, faccio questo. Anche perché o li porti con te i tre figli, oppure il tempo è sempre meno, sì, vero? Sì. Per forza. Valeria, mi viene da dire certo che con persone come queste le cose ti vengono bene, ti possono venire sicuramente bene, anche proprio dal punto di vista di chi poi è responsabile di Gulliver. Esatto, sì, sì. Perché, ecco perché sono qui insieme a loro, perché sono esempi fondamentali per far capire l'importanza del terzo settore, perché noi comunque nasciamo come associazione. E il terzo settore può essere, a mio avviso, come socia fondatrice e anche partecipante a questa vita, di una spalla sia al privato che al pubblico. Perché questo? Ecco, infatti ti volevo proprio chiedere, terzo settore si intende questo contenitore che si affianca alla condizione. Al sociale. Al sociale, esatto. Al sociale, sì. Dopo tanti anni mi sto rendendo conto che è stata una conquista iniziare questo tipo di vita. Perché in questo quadro di tante sfumature, partendo proprio dall'anima, dai bisogni, dalla parola, dalla presenza, da un conforto, da un pezzo di pane allungato e quant'altro, si riesce a fare anche un'economia concreta. Io proprio per carattere non sono abituata a parlare di cifre perché non mi piace e non lo tengo, diciamo, indispensabile in certi contesti come un contesto sociale come il nostro. Non sei come Chiara con la matematica. No, avrei preso un atto meno. Però oggi in questa sede, dopo 13 anni, che la comunità Gulliver giornalmente si impegna per un senso diverso, mi sento di dire che questo tipo di esperienza ha fatto sì che Gulliver formasse un salvadanaio che è sempre diventato più grande, più grande, più grande e ci ha dato la possibilità di regalare al comune di Pesaro, e lo devo dire proprio per una correttezza personale e correttezza anche della comunità, circa in due anni e mezzo 70.000 euro di giochi che abbiamo messo nei vari parchi per renderli più sicuri, più a norma, con manutenzioni già fatte, dove comunque bambini, anziani, chiunque sia li può usare. e questo importo per noi è mega, cioè 13 anni fa non pensavamo mai di creare questo tipo di economia e quindi nello stesso tempo devo dire un grazie immenso a tutti i cittadini che comunque continuano a donare. Noi riusciamo a fare questa vita di inclusione sociale perché questo è il nostro senso giornaliero. Poi tutto quello che c'è dietro economia circolare, riciclo, qualsiasi cosa è lo strumento che ci permette di dare questo esempio alla città. Ed è bellissimo perché credo che a Pesaro una situazione come la nostra nata così per destino tra genitori comuni di un asilo dell'infanzia è il massimo. E quindi, ripeto, ringrazio il Comune, ringrazio il Presidente, Andrea Boccaniera, che comunque ha lanciato quest'idea e noi come comunità giornalmente l'abbiamo sostenuta perché è doveroso dirlo perché se Andrea non gettava questo sasso in mare magari noi non esistavamo. E quindi è stata proprio una sinergia di anime e di cuore che dal bisogno causato dalla crisi di 13 anni fa siamo riusciti a fare tutto questo. ma non solo i 70.000 euro di giochi. Adesso mi sento doveroso dirlo perché lo devo dire come ringraziamento al cittadino e al Comune che ci ha appoggiato ma poi tanti piccoli interventi. Tra l'altro oggi come oggi abbiamo 15 dipendenti part-time ma comunque sono 15 dipendenti che hanno iniziato come volontari hanno creduto ed insieme siamo cresciuti. E quindi anche questo è un altro orgoglio proprio per rimarcare e sottolineare in grassetto che il terzo settore ha una certa potenza e dovrebbe essere sostenuto un po' da tutti perché fare un'ora di volontariato non è sprecare tempo è investire sugli altri e quindi secondo me questo è molto bello e deve essere anche esempio per i nostri figli che saranno il nostro futuro come ho detto prima. Quindi ringrazio la professoressa Chiara e Marco per essere stati qui con noi e parlare proprio della loro emozione e del loro credo che è uguale al nostro. Grazie davvero Valeria Gianni parole molto molto sentite molto toccanti che ci fanno comprendere quanto sia fondamentale davvero impegnarsi per una società migliore nel sociale per far sì che tutti poi possano condividere il benessere comune. Grazie Valeria Gianni Grazie a voi Grazie Chiara Benelli Grazie a voi Grazie Marco Ravagli Grazie a voi Grazie a voi per averci seguito continuate a restare su Rossini TV Buona serata a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi